Una idea che viene da molto lontano, ma il presupposto è quello di offrire un pronto soccorso psicologico nell'immediato con un mezzo autonomo gestito dagli psicologi. Oggi firmiamo un protocollo con il Comune, con i vigili urbani, che saranno loro a coinvolgere direttamente in urgenza questa unità operativa. E' importante l'intervento immediatamente dopo l'evento catastrofico o l'evento traumatico perché i traumi hanno un potere di incistarsi nella mente delle persone e c'è bisogno di fare un intervento entro le 72 ore in maniera tale da aiutare le persone a prevenire il disturbo post-traumatico da stress.